Roma, Anzio, Nettuno, Litorale Sud, le recentissime operazioni della DIA e della Direzione Distrettuale Antimafia hanno portato alla luce la penetrazione profonda dell'Andrangheta nella nostra regione e quanto emerge dall'ultimo rapporto mafia nel Lazio realizzato dall'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità Regionale. Il dato più inquietante è il sistema di inquinamento del tessuto economico e imprenditoriale, frutto proprio in gran parte dell'infiltrazione delle cosche calabresi. Nel rapporto rileviamo un salto di qualità nell'agire mafioso da parte di tutte le organizzazioni criminali, senza dubbio emerge, viene confermato il ruolo egemone dell'Andrangheta in questa città, nel senso che in questa città c'è un accordo pattizio tra tutte le grandi organizzazioni criminali per cui c'è un sistema di equilibrio, ma sicuramente l'Andrangheta essendo il player fondamentale nell'importazione della cocaina è sicuramente l'organizzazione più potente non solo a Roma ma in tutta Italia. I blitz dei giorni scorsi hanno rivelato proprio la capacità imprenditoriale delle cosche locali di Andrangheta al cui vertice siedono i boss Vincenzo Alvaro e Domenico Carzo. La scoperta della locale Alvaro Canso ci dimostra che pur essendo l'unica mafia in grado di controllare il territorio romano perché ha un'adottazione di armi importanti, ha i soldi, ha deciso comunque di stare dentro pienamente questo equilibrio tra le mafie. Questa settimana però è arrivata una buona notizia sul fronte della lotta alle cosche. La sentenza dei giudici della Corte d'Appello di Roma ha confermato infatti l'accusa di mafia per il clan Casamonica. È un buon segnale? È un buon segnale perché vuol dire che esiste la possibilità di riconoscere il metodo mafioso anche ad associazioni che non hanno le caratteristiche che per lo più si pensa debbano avere la lupare, ma in realtà esistono delle mafie autoctone che però non sono assolutamente meno pericolose di quelle che sono le mafie cosiddette tradizionali e che quindi è giusto riconoscerle quando succede e è giusto anche che vengano poi in qualche modo sanzionate con quelle misure, con quelle repressive che lo Stato mette in campo contro le mafie tradizionali. Quindi è comunque un risultato che ci aiuta in qualche modo a far capire che ancora una volta bisogna stare lontani da certe situazioni, che l'usura non è mai una soluzione e che in realtà lo Stato per chi denuncia c'è sempre. Grazie.